La cronaca ci riporta a Firenze. I carabinieri del Ross hanno estratto un bossolo rimasto dal 1985 in un cuscino trovato nella tenda della coppia dei giovani francesi, ultime vittime del mostro di Firenze. Un colpo a vuoto che non venne trovato nel corso delle indagini di 33 anni fa e che, come spiega il quotidiano, la nazione è stato estratto e consegnato al consulente della procura nell'ambito della nuova inchiesta. Per verificare se sia stato sparato dalla berretta calibro 22 oppure da un'altra pistola.